Conoscete la situazione? In camera da letto fa caldo. Il vostro partner vorrebbe leggere un po' a letto, quindi la finestra deve restare chiusa per non fare entrare le zanzare. Aprendo la finestra per fare entrare l'aria fresca, si invitano anche alcuni visitatori sgradevoli. Zanzare, falene e lepidotteri sono attratti dalla luce come per magia. Anche richiudendo la finestra non ci si libera facilmente di questi insetti fastidiosi. Se falene e lepidotteri sono innocui, le punture di zanzara possono essere molto dolorose. Il sistema di ventilazione Comfort di Zender offre protezione in tal senso, porta aria fresca in casa anche con le finestre chiuse. Notti tranquille senza insetti fastidiosi sono il risultato, così potrete leggere quanto volete. Zender, always the best climate.